Per i risultati conseguiti dell'attività agonistica 2016, avendo dato lustro allo sport nazionale, questa la motivazione del CONI che ha conferito la benemerenza sportiva all'atleta sulmonese Federica Presutti della KO Team Kickboxing di Trasacco. Per l'atleta allenata dal coach Maurizio Pollicelli, questo riconoscimento fa seguito alla medaglia d'oro conseguita lo scorso 23 gennaio alla Coppa Europa Golden Globe di Coneliano Veneto. La cerimonia che ha visti premiati con la benemerenza sportiva anche altri tre atleti della KO Team, nonché il coach Maurizio Pollicelli per il costante e qualificato impegno a favore dello sport, ha avuto luogo mercoledì 7 dicembre all'Aquila presso l'auditorium Renzo Piano nella splendida cornice del Parco del Castello Cinquecentesco. Proseguono intanto gli impegni per la sedicenne sulmonese che ha iniziato la nuova stagione agonistica conquistando l'oro alla prima gara regionale disputata lo scorso 3 dicembre a Fossa Cesia. Il prossimo impegno il 28 gennaio 2017 per la seconda fase dei campionati regionali a Trasacco. A Federica Presutti i nostri complimenti.